E ci fa davvero piacere tornare a parlare di una realtà che a dir la verità è sovente ospite in Radio Bequita e in Voce delle Chiese, ovvero l'ospedale evangelico internazionale di Genova, una presenza, un presidio sanitario sul territorio che non solo è anche un presidio evangelico, ma è un presidio che è in rete con una serie di altri enti in modo particolare e particolarmente attivo e attento sul tema della violenza di genere. Noi puntiamo sempre su questo, Barbara. Certo. Do il benvenuto a Barbara Oliveri Caviglia, che è presidente dell'Associazione dell'Ospedale. E, Barbara, noi torniamo su questa tematica perché davvero siete un po' il fiore all'occhiello e soprattutto siete il punto di riferimento per tanti servizi legati al contrasto alla violenza sulle donne. Sì, direi che con molto orgoglio che ormai siamo tra i protagonisti della rete antiviolenza metropolitana e continuiamo a veramente avere riconoscimenti e quest'anno abbiamo avuto un ulteriore riconoscimento anche a livello nazionale da Londra, che è l'Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna, che premia gli ospedali con dei bollini rosa, gli ospedali che sono particolarmente vicini alle donne per l'attenzione, per la cura delle patologie. E noi siamo ormai da anni che siamo premiati con due bollini rosa. E quest'anno abbiamo avuto un ulteriore riconoscimento proprio per l'impegno che abbiamo verso le donne. Quindi questo ci riempie di orgoglio, oltre che appunto avere questo riconoscimento a livello di rete metropolitana come appunto un ospedale che è vicino alle donne, particolarmente attento. A me piace dire un ospedale che è con e per le donne. Voi ci avete... tante volte ci siamo incontrate per appunto parlare del progetto Finessa Rosa, che è un progetto che ormai va avanti da anni, grazie all'otto per mille della Chiesa Valdese e che ci ha permesso nel corso di tutti questi anni di poter accogliere, curare e accompagnare più di 200 donne vittime di violenza, accompagnarle nel loro percorso verso la salvezza. E' un progetto che a me piace molto dire in continua evoluzione, in continua implementazione, proprio questo grazie anche ai rapporti che si creano nel corso degli anni con le associazioni, con il centro antiviolenza di Via Mascherona, che è il centro di riferimento metropolitano, per esempio. Adesso abbiamo un progetto insieme a loro, sempre finanziato dall'otto per mille della Chiesa Valdese, che è il progetto EVA, emergenza, violenza, accoglienza, che permette di dare una copertura ancora più estesa alle donne vittime di violenza che arrivano al pronto soccorso dell'ospedale. Grazie a questo progetto, fuori dall'orario delle nostre psicologhe, c'è una reperibilità telefonica che offrono le operatrici del centro antiviolenza, in modo che la donna sia sempre seguita, abbia la possibilità, se bisogno, trovare una persona con cui parlare, e cominciare soprattutto il percorso, e quindi questo ci permette di limitare proprio al massimo la dispersione, proprio che è quello che le donne, purtroppo, se vengono lasciate sole anche per poco tempo, tante non hanno più il coraggio di fare questo grande passo. Quindi un accompagnamento costante e duraturo nel tempo. Tra l'altro tra un po' ci sarà, tra qualche mese, un paio di mesi, ci sarà la giornata del 25 novembre, e voi sempre nel periodo circostante organizzate un momento di formazione, di incontro, di confronto. È un momento molto bello, io ho partecipato anche da remoto in alcune occasioni, in cui davvero mettete intorno ad un tavolo virtuale, oppure concreto, presente nella vostra sede, varie parti, vari elementi di questa rete in cui siete inseriti, proprio per dare un po' un'idea di quante cose si possono fare tutti insieme. Infatti esattamente, noi nel mese di novembre, in prossimità del 25 novembre, organizziamo proprio la giornata per eccellenza di Finesa Rosa. Ed è ormai diventato un appuntamento importante per la città, e un momento molto importante di confronto e di incontro con tutte le realtà della rete. Quindi partecipa sempre la procura, la procura dei minori, le forze dell'ordine, carabinieri, polizia, centri antiviolenza, i consolati, che l'ospedale evangelico è l'unico ospedale che ha stipulato dei protocolli di intesa, di collaborazione con i consolati stranieri. In particolar modo col consolato dell'Equador, dove a Genova è presente una numerosa comunità ecuadoriana, noi abbiamo appunto questa collaborazione per cui andiamo noi, i nostri medici, va al personale, va al consolato e incontra appunto la popolazione per dare nozioni di educazione sanitaria, momenti di approfondimento sulle principali malattie. E quindi partecipa appunto anche sempre il consolato a questa giornata. È una giornata appunto importante perché ci si arricchisce, no? Perché comunque si hanno spunti per approfondire, per migliorare la nostra azione. E devo dire che siamo l'unico ospedale che in maniera costante ogni anno fa questi corsi di formazione per il personale, perché la giornata di finestra rosa è un corso di formazione. importantissima la formazione per i dipendenti, oltre che per noi ovviamente, perché? Perché abbiano gli strumenti necessari proprio per individuare, intercettare e soprattutto sapersi rivolgere e sapersi avvicinare alle donne vittime di violenza. Ci siamo concentrate sull'ambito violenza di genere, contrasto alla violenza sulle donne, ma ovviamente l'ospedale evangelico internazionale di Genova offre tanti altri servizi. Tra l'altro volevo ricordare che trovate delle piccole brochure, siete presenti con uno stand qua in piazza Settembrini, lo rimarrete fino a questa sera, quindi si può passare a chiedere informazioni, oppure sul sito O-AGE, che è l'acronimo appunto dell'ospedale, trovate tutte le informazioni. Grazie Barbara, buon lavoro a te e a tutta l'ampia equip che ti accompagna e alla prossima occasione. Grazie, grazie a voi.